Sì, Presidente, questa è un successivo che andrà a modificare quella che era la norma straordinaria, parte della modifica dell'articolo 25. La norma è stata completamente rivista perché appunto è intervenuta l'81-2020 che ha sicuramente previsto delle novità rispetto a quello che era scritto nella mia proposta, che è stata fatta prima del decreto e prima dell'introduzione dell'81-2020. Quindi vengono cancellate alcune lettere, vengono modificate alcuni commi e questo è il primo degli articoli che interviene sulla norma straordinaria. Grazie.